Martino Lucatello 53,88 in qualificazione ha stabilito il primato della manifestazione lui che vanta un personale inferiore a questo tempo ha notato 53,67 a Riccione ai campionati italiani giovanili per vincere il titolo italiano e si fa sotto subito dalle prime due vasche, attacca 24,92 per un passaggio velocissimo Bressanello 26,59 Franceschin 26,82 una stagione bellissima per Lucatello lo scorso anno un oro e un bronzo agli europei juniores e due bronzi mondiali a Lima ai mondiali giovanili nei 50 farfalle con la staffetta 4% missa guardate che vantaggio andiamo a vedere il tempo Martino Lucatello 53,25 al nuovo primato personale e nuovo primato della manifestazione e ballano i pinguini non solo quelli sul maxischermo della Sightland ma anche i nostri pinguini fanno festa per questa splendida vittoria Bressanello 56,86 Franceschin 3,57,54 e che dire 53,25 per la vittoria quale regalo più bello per il suo diciottesimo compleanno auguri Martino Lucatello 18 anni oggi